scusate se l'ultima volta non l'abbiamo salutato ma era finita la memoria ciao luna non c'è che fare per favore per favore dvd dvd non potrebbe e mi ha dato tanto che non gli faccio più livelli in moto E lui ce l'ho E lui vuoi prenderti Ui, questo è quello che mi ha fatto la memoria se sei davvero bravissima testo ok in mezzo la città l'agente non c'è nessuno un po' di via allora va bene adesso è bello Oggi non è girato Sì! 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 Sono qua! Oh, ok! Oh! grazie grazie se non si riesce a farlo credo che Amanda non sia e questo sarebbe il momento della verità forse è questo il segreto scavare nel passato per comprendere io sono un ingegnere io costruisco il futuro non scavo nel passato lo farai prima o poi dopo tutti Lara scendi subito giù con l'ora Gesù dice che stiamo per sfondare un minuto Amanda abbiamo dei dubbi strutturati puoi portare qui quelle chiave proprio frattissimo adesso siamo al buio spero tu non ti ha portati in avanti le assi sopra il pozzo sono l'ordine dovrai tordolarti per l'antraverso direi botone del burro nel caso eh non è che il kit magic non è che la luce non è che le pistole non è che il bilanco non è niente che sta succedendo Amanda Amanda mi senti Amanda c'è una scena eh Amanda 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 oh Sarah cosa è successo? cosa è successo? no 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 Grazie a tutti. 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 Ciao. 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 Ciao.